Allora ragazzi sono qua a casa di nonna, quella nonnatina, si è proprio una cicciona, si quella lalla, ho deciso di farvi un tour di tutta la casa, a volte bloccherò, mo mi trovo al bagno per fare il tour, però piano piano andremo a fare il tour in altre stanze, quindi andiamo e vi lascio al tour, ciao! Ok, allora siamo qua, vi faccio vedere innanzitutto qua così, questo è un, aspetta che cos'è? La migliore polvere per la pelle, borotalco, questo è il borotalco, sto borotalco ce l'avevamo pure noi a casa, Oh, ci avevamo pure questo, che è tipo il medici, medica, quello tipo se ti fai male, una bua, ti metti quello qua la pelle e ti passa. Poi ovviamente qua ci sono altre cose, un cassetto, un altro cassetto, due luci a quanto pare, là sopra, quello là dentro non so che c'è, però vabbè, altri vasi eppure là dentro non so che c'è, tipo dei sassolini sono, rosa e marroni. Qua c'è la bomba da bagno, chi non sa che cos'è una bomba da bagno è tipo quando tu ti fai il bagno dentro la vasca, la metti dentro la vasca e poi ti lava, però funziona pure con le mani, perché visto che lei non ce l'ha, la usa per le mani. Qua ci sta la saponetta, ovviamente il sapone, qua tutte le cose strane, non so che cos'è qua, pure qua non so che cos'è. Passiamo qua così, la mia parte più bella, lo sapete qual è? La mia parte più bella è, venite, venite, è sta parte qua che è tipo sale, sale, ci stanno tutte le cose dentro, tipo qua queste cose, qua queste cose, e là sopra delle cose però non riesco a farle vedere. Qua così, altri cassetti che dentro non so che c'è qua, la parte tipo delle carte igieniche, non so come si fanno a reggere, dovrebbero cadere, però non so come fanno, e passiamo qua sotto alla lavatrice, qua il water qua, sopra, alla luce, e là c'è un orologio a forma di piatto. E niente, vi lascio alla parte due, alla parte due faccio vedere, faccio vedere il salotto dove ci sta la tv, cioè la chiave il salotto. Ciao! Ciao!